Il GUP del Tribunale di Bari, Marco Galesi, ha condannato sei cittadini nigeriani appena comprese tra i cinque anni e i nove anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo su una condazione alle 25enne avvenuta nel Cara di Bari-Palese nel 2017. La sentenza è stata emessa con il rito abbreviato nell'aula bunker del Tribunale di Bitonto. Stando alle indagini della squadra mobile di Bari, coordinate dalla PM Simona Filoni e Lidia Giorgio, la donna, che è ora in una struttura protetta, già vittima di tratta, riduzione in schiavitù e destinataria di violenze mentre era in Libia, dopo essere sfuggita ai suoi aguzzini ed essere arrivata nel Cara di Bari, sarebbe stata minacciata di morte, picchiata e violentata per mesi. Alcuni degli imputati sono stati destinatari giorni fa di un'altra misura cautelare emessa dalla DDA di Bari, nei confronti di 32 persone perché ritenuti appartenenti a una gang mafiosa nigeriana, che aveva base logistica nel Cara di Bari, dedita principalmente allo sfruttamento della prostituzione. Agli atti dell'inchiesta sulla mafia nigeriana ci sono anche le dichiarazioni della vittima della violenza sessuale, la quale ha descritto agli inquirenti il clima di terrore che il gruppo incuteva su tutti gli ospiti del centro di accoglienza. Il giudice ha condannato inoltre gli imputati a risarcimento danni nei confronti delle costituite parte civili, la ragazza vittima con provvisionale di 10.000 euro e le associazioni Gensenova e Giraffa.